Profondo minimo tra Golfo del Leone e Mar Ligure con associato sistema frontale in transito sul centro nord Italia. Nelle prossime ore graduale spostamento del minimo verso il medio adriatico, pressione e lento aumento sul Ligure ma fronte occluso associato ad aria piuttosto fredda in quota sul centro nord della penisola. In Toscana giovedì 28 dicembre nuvolosità variabile più consistente nella prima parte della giornata con rovesci sparsi, dal pomeriggio tendenza graduale miglioramento fino a cielo sereno poco nuvoloso a partire da nord ovest, nevicate intorno a 5-600 metri localmente fino a 400 metri, venti deboli o localmente moderati settentrionali sulle zone interne, moderati o localmente forti di maestrale lungo la costa e l'arcipelago, mari agitati soprattutto a largo tendenti a molto mossi, temperature in calo costantemente sotto zero in montagna. Sul territorio provinciale molto nuvoloso con piogge alternate a schiarite, migliora in serata, a Lucca e sulla Piana temperatura minima 2 massimo 8 gradi, a Castelnuovo Garfagnane zone montane minima 0 massima 6, a Viareggio sul litorale minima 6 massima 12 gradi, venerdì inizialmente sereno ma nuovo peggioramento in serata con deboli piogge. Grazie!